Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella diciottesima puntata della serie Terzisti. Oggi siamo qui con... Di nuovo a tutti. Grego, ciao a tutti. Di nuovo a tutti. Di nuovo a tutti. Eccoci qui ragazzi, allora... Nuovo acquisto Fastrack col GCB... GCB Fastrack col ravizzone uguale, insomma... Stessa schina. Ehm... Ok, te lo pa? Ehm, guarda qua, guarda qua, non mi sta, eh. Perché credevo di riuscire a vendere tutto in un colpo solo con questa... Con questo carro, almeno lo guadagnavo di più, però allora lo faccio per due almeno. Cioè non è bastato lo stesso, quindi ci siamo io e Grego che adesso dobbiamo vendere. Si vende lì? Ecco sì, qui dove sono io, cioè fai farci le tue marce. Penso di sì. Sennò che mi sono quello esperto, eh. No, no, stai parato con un gerome che da tu. Ehm, sì, felini. Ehm, felini? Felini, eh? Celere brasa valore. A parte della famiglia di lei è la manovra del giorno è la cosa più difficile del mondo, è fare una manovra sc Ice de Lee diри. E si tratta di il giorno di video, cioè il detto per parte della famiglia di committing, di convivere Riccoghe l'opera che ha lasciato più abitazione, Un'altra momentà dove trovare la famiglia di��e Aальномorica è il아요co, lui il d'感じ. Ehm, rimoglie io, lei è la fisca, lei è il cibo, lei è la fisca, lei è la fisca. Ecco in Italia, grazie... l'arco rai che la musica è fra d'unico andrea che lo vediamo più che altro che poi mi danno un po' apre che stiamo distratto il riscaldino stimo si può bella del bar di poterlo se non troppi le 20 secondi guardano guarda anche un secondo una cosa è quella guarda la parte la cosa che perfetta se lo vede il mondo anche io non sollevatore frontale almeno poco di dire che io ho provato a guarda ma cosa fa io appassi fa io penso che mette le frontale posso fare io per favore ma che ti interessa panni ed equa che fredda ci sanno largo ecco perchè si donna stati roba guarda che ma scusa devo metterlo di fianco al coso direttamente a decimi ah io credo che tu scaricassi e poi io dovessi metterlo ma no e allora vieni qui grego col muso fai quello che sto facendo io vieni qui giri vai avanti qui e poi vieni indietro ma guarda che io sono esperto eh? eh io sono esperto in manovre eh vedo stati dell'alto stati dell'alto fai il pelo al falter si coci va bene proprio adesso è fatto di partenza grosso non è una stessa siamo a lavorare così dottino guarda lo guarda lo guarda lo guarda lo neanche riesce a fare del delitto neanche una retromarcia del posto ha detto sì che c'è la risca fama che lo fa la curva e con te lo fa stracano non è m la carta a quando va bene non dopo dopo che posso vedere e la lavorata pure i secondari di la terza di là tardi e tardi e tardi e tardi non è la mia mamma che fa ma che fa via del m e lo so gira di là popoli non è troppo no 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 ma poter diamogli una buona che è tu panculo ce l'ho fatta bravo 3 2 1 via la città 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 mi ha detto è finito tu sono io ho fatto tutto se ci vuoi stai casa ho fatto parlato tutto parlatoci anche lì mi ha parlato pure per non buzza più a allora mi dovete dare 16.200 euro tutti merda se poi gli ammontati mi devi agli rumeni eh secondo me ma non c'è ma non c'è che non c'è da fare cosa io tu la mattina eh grande grazie 10.200 euro eh te li sto passando grande grazie che ti ho detto per chi ha fatto un retromarcia mica ti prendo in giro pure io te lo voleva eh sì eh sì quando è 16.200 che ma c'è altro stato la farmale grego no non c'è niente ah beh c'è niente io non vedo niente per me adesso devo per me si va mandando il tempo no per me no che devo vendere ah c'è niente eh c'è la soia c'è la soia c'è la soia c'è la soia di paracantino la soia di paracantino io lo trovo uno ship qua da sopra qua da sopra ah ah oh hai uno ship parlare paccio facciamo quello che fa e ci ha cambiato la vattene ormai e san patricio per caso non so se ciò che sarebbe la madre per la vattene abbatte con me per tocchi stato inserato e che coglioni come si mettono sopra 1 un'altra torre ma c'è conti c'è un'altra parte in grado ea vuole in allerva pericoloso combattere pochi tanto per lo fuoco le palme la massima di percorso il peggio adotta la bicicletta ricordi che preso fuoco la bicicletta tra le trascine che si è avvocato l'uomo l'uomo in migliorare il nome non soggiglietta c'è la mandato non ricordate allora io ho visto un bezzettino della città di un basso attaccato colbo del scotch e la passandina su procetto sul terraio della bicicletta in modo che metto a casa grazie per la casino allora scomigina messa per mandare passandina come forbicino non già faceva tagliarla e con collezionaglie mango e sopra di tutto a un certo punto non lo diremmo mettiamoci un po' le solvente e poi gli diamo fuoco eh stavo con cucina un cazzo ha avviato fuoco tutto c'è no vincitata no pro ha fatto la schermata e noi vado so spendo con l'acqua tu tu ecco c'hai c'è la foresta qua io no no a medici e adesso vengo a vedere oh la facciamo una legna dai tu puoi togli il berbano la facciamo una legna la facciamo una legna chi è vero a me basta che me dicete guarda a me si può fare io la roba per la legna ce l'ho già quindi ma si regola come sta l'altro capo che cosa aveva un signore al capo eh non ci sa ancora in teoria ma quello che ho chiesto oggi sul gruppo eh non si sa ancora bisogna decidere ok facciamo un'altra e piattura tu sei tra stavolta questo prendere tutto da distrutto ciao portami la trebbia allo sto per favore ecco a vedere la mia amore non so che si trova il sulle è un attimo sto aiutato per l'acqua a allora a porto tanto qui ciò di capone perché la e non è che la ma tipo il ritardo st ma finita stella grande momento non fa la gara la la bene va bene ah metti in pausa no no aspetta mettere in pausa quando fa la sincrona mette in pausa e io aspetta te premio il tasto adesso fai il tasto pausa eh pause eh la prima stessa le bozzande in fondo buonanotte sulla tastiera sulla tastiera sì ma c'è il tasto pausa pause poi ci metto tanto fa la sincro buonanotte ahahahahahahahahaha ahahahahahahahahahahahahah come ti uccambata a p ahahahahahah ecco e niente che finita la sincro la partita in pausa ooh oh 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 assento cause già e' sicuramente migliore sei d'altro ascolto anche io in cattila quando ci sono altri carcerati dacca ahahah ti vuole solo salita con i carri pesanti capo capo due proc e' la città no no adesso ma che si può fare o a quelli ii 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 cc 1.2 del motore c'è stato tutto 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 dove quando buttato lo fumava dove scappamento no che fa ogni scopo vuota io una nuova pastasta mancetta a me quello mi sta a sentire papa papa per me compilando partito da quando vai 8.800 euro da tutti bene va bene vado sta 8.800 8.4 sei no porca puttana tu mio passato post passato passati per me quanti quali ieri per conto mio niente guardo appena finito siamo a spazio disegnere per un bambam avanti il tempo a per me adesso si può e' trova aspetta che devo venire nelle tre b e credo lei non è finito qui significato di prendere un'altra cosa a carellino quando fa la barra parla mai a me quanti erano qualcuno si ricorda quanti erano 8.000 800 8.800 8.800 8.800 la barra da maestà deve mantenere perchè non so se i soldi che faccio qui riesco ma perchè c'è l'opera testa 3 maia e c'è 0.2 8.000 che credo è 3 piatto a tecnici vantica di cadizze guarda ma non sono fatto per pericolare davanti gli occhi o a a a a a io mandavo a il momento del video il rai e sotto metri a 16 milioni domani mattina ferma non è almeno guardiamo se c'è qualche offerta apporto ma c'è uno spandire tale grego per farlo perciò un attimo ma è un attimo ma ti piace per chiare scommunare devi pulire la pecore le montagne le va a tutte e due insomma o se detto questo lo sanno in un tasto porca pochino a creare in generale con la retta è vero una bella ragazzi io vedo qui si arrivano soldi anzi fermo lato vedere l'indirizzone per tutto il mio convoglio da mettere amico ci manda questo acquisto nuovo io i soldi a zero quindi puoi farlo io andrò se lo posso vedere io faccio vedere qui guardate ragazzi la pulizia qui delle vacche è a 0% attivo questo 8000 guardate che compare l'erba 9000 adesso dovrebbe tipo comparire ora ancora do portare qui è quello che pulisce quella sbarra che come sull'aldstream quello che corre qui vedi è così l'ha in teoria prima ha creato i mucchi d'erba forse ha già creato adesso sono questi mi dovete 23.500 euro a testa in teoria se quando 23.500 a testa attenzione un'altra parte un'altra parte un'altra parte la faccia compagnata un'altra parte quando era 23.500 ok 2.500 35.000 euro ok ho fatto 3.500 in teoria e liquone 10.000 3.000 euro non sembra caldo nelle dati apposto non poterà più la politica 3.500 3.500 che coglioni stea avrò ecco non mese forte perché non ho fatto per terra 3.500 c'è stato di tarapola 3.000 il posto 3.000 stacco dalla sangue con le peggio il port 3.000 3.000 4.000 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 5.000 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 per me ciò che dimagrisco tu prima detto agrega non puoi chiedere la mano perchè non ha trattore e che ti dice che era un altro attore la vita di che best ma non ho fatto un prodotto che ha 10 ruote motrici credo c'è proprio stupido il tempo e lo stupetto la propria romanzo che è meglio lo formato e te dovevo tirare le botte mara cosa vuol dire milano e 90 quello che non serve per me anche non puoi ciò pazzesco e coi ci sono un altro tempo anche con il mio marzo per fare il testo e per questo obiettivo c'è la tagliere sale del sistico il tipo quello 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 con le spazzole come cazzo faccio pesci c'è stato a fare un giro per se lei prende la proposta di testo 8 esiste capo ma stava racconta fico ma fa non puliscono perché devi venire la raccogliere la roba non è che mi mangia la porta ma prima la legge lui ti butta l'erba ne ha mangiato le l'erba nel passo e poi lo devi togliere tu no prima l'ho dato meglio a 0 facendo uguale no prima c'era 100% ma ricordo io e va perché ripulito quello l'acqua io mi faccio il domani bordo e poco le altre baguette dai gregorio il pietro ci per perdere ma mi si è appuntato tutto e sto capito grego si vuole la dame staccavamo vieni qui che la copertura non un altro aspetta toccoglio da coppocci che come un'altra cosa da essere un altro qua fuori che se non lo fa spudalo sangue il darello con il terreno porto c'è con te che attrezzo porto anche skilli mezzo a 2 va bene a sole qua che è tutta sta paglia o dove? qua qui 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 erogali eeeh l'amica raccoglia ierbanti di più un urgo perchè 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 quando venne è vero devi venderlo manualmente famo quando c'è sta guarda lei guarda viene guarda in realtà ora vedo io andro ma lo dico io ce ne stanno 10 no sette mani e doppia trattore si era quello di base di la sette milioni prima e che davanti non si muovono nel vero venditore n è una vera dottore troppo scapperà le mappe no che secondo me che l'urpo a greco per me non farmi fare quattro io anche se vuoi avrei qualcosina credo a fare movimenti capito un po' crea che se apri moglie si si so capito aspetta che rimette le bombe loco sotto alle voce grego hai finito il liquomba che c'era dentro la botte? no quanto ce n'è ancora tanto? penso 10.000 litri non ce la fai a finirlo? eh si se mi impegno si eh no adesso perchè dovrei usare la botte? sai com'è ah eh proprio se io la botte del piscio per metterci il latte eh pesca di fai un ruolo eh sci e gli andavo a parlata un attimo e sci e parlata eh sennò guarderò di comprarmi questa no scherzo no 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 tanto so farmi no 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 oramai l'ho deciso con un po' compro compro quella la eh la mi ha fatto cambiare z no 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 non te scapp**** ma ti sai se per me c'è un giudito 40.000 in teoria per il prossimo però non volo per il tuo amore quando la stava e giacchio si mandò io non c'è nello si trova domani che ma non gesto più piccolo nati adesso io acquisto non vedere gli iscritti io comunque compro ma te l'animale ti piace il comaggio c2 mica tanto che cazzo è sono all'ups ma perchè sono oh cronotachigrofo qui siamo fuori di 10 ore di guida wow che te pigli angorbo fai via le parali segnota vaffanculo che te pigli una parali oh guarda che sto lavorando eh dimmi grazie ma la mamma te che sparò a fa 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 no il fondo alle due tre persone non fa bifidi quindi se mi sarà questo la mia tecnica spacco il testo oh quindi prendo la 71 30 giusto che potevo si bello cercare tanto sul mouse abbiate lezione vai il film con lecce e' alexia non c'è i soldi e' non posso stasera 3 1 1 1 1 a tutti i miei trattori sono riempiti ahahah che si tratta o salgando dove si carica l'arte eeeh visto che bestia questo caso è un euro forse per l'arroporto a noi c'è vai parlete quando ho fermato il porto no è così più ah no ma ecco si può bucà ti stai chiusa a fare mi prende la rimorca per questa no esci 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 era lato esci lo fa cargà no porca puttana devi glielo colo cartello ah non so io porca puttana un po' scatola fate che guarda quest'altra frutta che colore hanno voto di quella non me ne va una leggera oggi e abbiaco perciò tutto perciò via. palma bene posso andare al caldo caricare se perciò perciò iniziato per un battagione bellardi acqua che bestia all'ascola calma allora tanto ragazzi per il mio senso per la visione da aden acquisti vabbè samuele no aspetta facciamo vedere il bertoldo la ci comando la case eh schifosi acquisti di Matteo di Daniele ah di Samo Grego vedi tutti vedi tutti vedi tutti ah ragazzi buona notizia da in teoria prossima eh si ho capito ma da in teoria prossima settimana vedrete di nuovo il premolino qui con noi a giocare buona notizia quindi ci sentirete di nuovo insultarlo era solo quello il nuovo acquisto eh eh anche la ma è ripassata ieri cos'è? ma perchè si è preso questo? ma perchè è scappato per tolto vabbè da adenna grego samuele per tolto e simon che forse gli tolò lo bagno è tutto ciao a tutti ciao